capitolo 11 niente biglietti premio per noi dovete andare al mercato agricolo esordieve come se ci stesse spedendo a fare una serie di test standardizzati particolarmente odiosi eravamo di nuovo seduti nel separé e c'era stata servita una seconda porzione di pizza e questa volta la stavo mangiando perché ero tornato adolescente oltretutto non c'erano boomer che cantavano canzoni di protesta il che facilitava la digestione grover ingoiò un pezzo di piatto di carta unto cosa c'è di così tremendo in un mercato agricolo la dea arricciò il naso iride si è messa in testa che il suo negozio di prodotti biologici in california non era sufficiente adesso deve proporre le sue merci al mondo intero sabato prossimo di fronte al lincoln center la troverete con una bancarella di cristalli incensi e zeus sa cos'altro tirai un sospiro di sollievo un'altra impresa in zona e di sabato significava che avrei potuto passare il resto della settimana a concentrarmi sulla scuola non che fosse divertente ma era sempre meglio che attraversare il paese per raggiungere un mercato agricolo del cavolo dell'aidaho annabeth invece succhiuse gli occhi studiò ebbe come se la dea potesse attaccarci di nuovo con una tempesta di strass quindi pensi che sia stata iride a prendere il calice ebbe scrollò le spalle sta a voi determinarlo tutto quello che posso dirvi è che non sono stata io e iride è l'unica altra dea che abbia mai ricoperto il ruolo di coppiere degli dei forse dietro quella facciata arcobaleno tutta pace e amore odia ganimede più di quanto lasci intendere io iride l'ho conosciuta obiettai non mi è sembrata una tipa malevola e io sì ribatte ebbe teni la bocca chiusa a volte imparo anch'io grazie per la tua guida grande ebbe la omaggio annabeth ti chiediamo il permesso di andarcene da qui in pace la dea sbuffò incrociando le braccia e va bene ma niente biglietti premio grover si schiarì la gola come si fa quando hai mangiato piatti di carta onti non dirai a nessuno della faccenda del calice vero certo che no aspetto con ansia di vedere ganimede perdere la faccia al prossimo banchetto ed essere ridotto in cenere da zeus disse ebbe con un sorriso maligno ma ricordatevi se offenderete iride come avete offeso me non ve la caverete altrettanto facilmente vi pentirete di non essere rimasti bambini quando gettammo un ultimo sguardo a ebbe la dea stava accogliendo un gruppo di millennials che volevano rivivere gli anni 90 attraverso la magia del karaoke delle spice girls sperai che ne uscissero vivi per tutto il tragitto attraverso la sala giochi percepì puntati su di noi gli occhi del personale dei clienti e delle galline temetti di essere ritrasformato in un bambino da un momento all'altro riuscimmo a tornare a times square non ero mai stato così felice di vedere la familiare folla di turisti ora ad altezza d'occhi e non di chiappe una volta alla stazione della metro ci separammo nessuno disse granché eravamo tutti e tre decisamente scossi dal nostro pomeriggio di ritrovata infanzia polli e terrore però non ero troppo preoccupato avevamo affrontato insieme tante volte il trauma post avventura e sapevo che ci saremmo ripresi annabeth si diresse in centro alla sodnik grover prese la long island railroad diretto al campo mezzo sangue io proseguì a piedi fino all'upper east side avevo bisogno di un po d'aria ogni tanto mi guardavo le mani ripensando a quanto erano state piccole e a come mi ero sentito impotente a non poter usare la mia spada dentro avevo ancora la sensazione di essere un bimbo di otto anni sull'orlo delle lacrime quella sera rimandai i compiti sorpresona lo so mi sedetti sulla scala antincendio facendo pensolare le gambe sopra il vicolo l'ansia mi ronzava nelle vene ho sempre sofferto di un'inquietudine di fondo ma questa era peggio avevo affrontato un sacco di imprese in cui la posta in gioco era ben più alta in cui se avessi fallito le città sarebbero bruciate il mondo sarebbe esploso i pantaloni a zampa d'elefante sarebbero tornati di moda qui si trattava solo di recuperare la coppa di un dio eppure mi sembrava rischiosa come nessun'altra avventura mai tentata forse perché ero così vicino al diploma e speravo all'inizio di una nuova vita in california mancavano solo pochi passi ma il terreno cominciava a creparsi sotto i miei piedi temevo che il mondo non riuscisse a reggere il mio peso ancora a lungo ehi disse mia madre guardai dietro di me e la vedi scavalcare il davanzale hai bisogno di una mano feci per alzarmi non sapevo bene perché la cosa mi preoccupasse si era arrampicata fuori da quella finestra centinaia di volte però quella sera mi preoccupai forse perché tutto il mio futuro pareva appeso a un filo mi invitò a rimanere seduto ce la faccio mi rassicurò è solo che mi è sembrato ti servisse un po di compagnia si sedette accanto a me con la schiena appoggiata contro il muro di mattoni le ciocche grigie tra i suoi capelli brillavano come vene d'argento per gli strani casi della vita la prima spruzzata di grigio era venuta prima a me che a mia madre grazie a un certo titano di nome atlante ma la sua le donava di più non sembrava più vecchia piuttosto più regale mi ricordai che tanto tempo prima poseidone l'aveva paragonata a una principessa e non aveva voluto intendere lo stereotipo della damigella in pericolo ma una principessa guerriera dell'antica grecia che non faceva prigionieri e sapeva come brandire una lama di bronzo mia madre aveva quel tipo di forza e aveva anche la sensibilità di notare che stavo male e di arrampicarsi fuori da una finestra per stare con me per un po restammo semplicemente a goderci il silenzio guardando scenette di vita cittadina nelle finestre illuminate del quartiere una famiglia stava cucinando la cena ridendo e lanciandosi gli spaghetti un vecchio tutto solo era affondato in una poltrona col viso velato dalla luce azzurra di uno schermo televisivo due bambini saltavano su un letto e si prendevano a cuscinate amo new york perché puoi vedere tutte quelle vite fianco a fianco come un patchwork infinito di schermate di videogiochi diversi che ti invitano a cliccare su play e scivolare in una nuova realtà mi domandai se qualcuno avesse mai pensato di scivolare nella mia di vita come ero quando ero piccolo la senti tendersi quasi fosse una domanda trabocchetto perché me lo chiedi oggi sono tornato all'età di otto anni di solito non racconto a mia madre i dettagli delle mie missioni non voglio preoccuparla più del dovuto sa già quanto è pericolosa la vita di un semidio quella sera invece le raccontai il mio pomeriggio da brivido tutto questo in un pomeriggio chiese ce lo sgai mi è sempre piaciuta però annui con un nodo in gola ce l'hai fatta tu ce la fai sempre osservò così pare ma è stato come se tutti i miei progressi tutti quegli anni in cui sono cresciuto e ho imparato a sopravvivere ebbe se li fosse portati via con uno schiocco di dita ero di nuovo un bambino indifeso tu sei un sacco di cose persi ma indifeso non è tra queste mi mise una mano sulla spalla quando eri piccolo ogni volta che avevi paura magari per un attimo ti tiravi indietro ma poi marciavi dritto verso ciò che ti spaventava qualunque cosa fosse lo fissavi fino a quando non se ne andava o finché non lo capivi pensare a te bambino mi fa sentire esasperata rise fiduciosa stai ancora crescendo sei diventato un ragazzo buono e gentile e io sono orgogliosa di te il nodo alla gola raggiunse le dimensioni di un kiwi e comunque dubitare di se stessi va bene riprese è una cosa normalissima anche per i semi dei soprattutto per loro mi tirò a sé e mi baciò sulla testa come faceva quando avevo otto anni e poi devi lavare i piatti feci un sorrisetto quindi tutto il tuo lisciarmi era solo per farmi sbrigare le ingrate faccende non solo per quello ora dammi una mano ok sedersi è facile rialzarsi non altrettanto lavai i piatti perché credo che i semi dei debbano fare il loro dovere lasciai paul e mia madre in salotto abbracciati sul divano ad ascoltare i vinili jazz di paul entrambi mi ringraziarono e mi augurarono la buona notte io però rimasi sveglio fini i compiti non so come trovai la forza per algebra avanzata buttai giù anche un tema sebbene le parole mi nuotassero davanti agli occhi e la metà fossero probabilmente scritte sbagliate quella notte dormii bene come non mi succedeva da tempo capitolo 12